Era la seconda Supercoppa per te, hai vinto l'anno scorso, mi sento emozionato, sicuramente quest'anno la giocherò con un'altra squadra, quest'anno le regole sono diverse rispetto all'anno scorso, quest'anno la gioco contro Milano, che appunto ci ho giocato contro giusto tre mesi fa, quindi vorrei vincere domani, sicuramente sarà una partita difficilissima perché loro sono una squadra molto forte, hanno aggiunto dei nuovi nesti e quindi vedremo domani.